Ecco qui la nostra versione del banana bread. La colazione perfetta per chi vuole mantenere abitudini totalmente vegetali, senza glutine e senza zucchero bianco. Favoloso anche come merenda accompagnato da composti di frutta. Oro sembra molto interessato alle banane. A 200 g di farina di grano saraceno aggiungiamo 150 g di farina di riso, un cucchiaino di bicarbonato, 50 g di uva passa, 50 di noci spezzate, 50 di anacardi, 50 di mandorle tagliate a metà, 120 g di pichi secchi a fettine e 3 banane schiacciate con la forchetta. Concludiamo con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e 250 ml di bevanda vegetale. Mescoliamo per bene e riponiamo il tutto in una teglia oleata. Livelliamo, aggiungiamo semi di zucca, semi di chia, sesamo e qualche mandorla e inforniamo a 200 gradi per circa mezz'ora. Ed ecco qui il nostro fantastico banana bread. Senza uova, senza glutine e senza latticini. Un pane dolce e sfizioso ma super sano. Lo proverete anche voi?